Ciao ragazzi, io sono Rawan Oggi facciamo video di giocare con... Ah Il colore amore Aspetta, andiamo a metto italiano Andiamo giù, 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 giù Giù, 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 giù Giù, 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 giù Quanto giù devo andare Ah, bello Ok, raga Ora giochiamo a coloro die Cioè a coloro amori Perché lo dico sempre in inglese Vabbè A coloro amori Provavo a vincere Quello è proprio il mio meglio Perché io come... Non ho vinto Non ho mai vinto un gioco direi In senso completo Non ho vinto dos Non ho vinto Rainbow Friends Non ho vinto coloro die Non ho vinto niente Ero invece ho vinto tre volte dos E una volta coloro die È assurdo E comunque adesso gioco Nella prima di tutto Mettiamo sta vernice nera Qua Ok E andiamo da questa parte Facciamo un po' di segreti Per andare con le scale Prima pannello Qua c'è Rolling Che c'è la televisione Per un pannello Dovrebbe stare qua ragazzi Poi Ci ha scritto un altro qua Vabbè Andiamo avanti Giriamo Ecco il muro rosso Mizziamolo di rosso Prendiamo il cacciavite E andiamo Una volta ragazzi Stavo proprio alla fine Dovevo arrivare fino alla zona sicura Per vincere No Io invece ho perso Avevo tutto fatto Tra di questi pannelli Però ho perso proprio Arrivare alla zona sicura Mi sono incavolato nero Con la faccia tutta rossa Cioè era assurdo E poi Ho detto Non voglio giocare Più a coloro die Per un mese E poi è stato vero Non ho giocato Tipo a color die Cioè a coloro morì Per un mese circa O due mesi Mi sono odiato Me stesso Oddio Quante volte Sto cadendo Nel vuoto Quando lo vedete Quel buco là Sono curioso Di andare però Vediamo Forse è un posto segreto Non si può arrivare qua Sono a casa Alla dritta Allora Arancione E un altro Possiamo aprire Adesso Porte Arancione Poi non avresto Non ho visto cosa c'è Scatto Abbiamo due pannelli E la E Possiamo dipingere Due arancioni Solo Oddio C'è una mostra Questa è una cosa Anche io Chiamo tizio Però Non lo chiamo Tizio Amore C'è il tizio Non è merino Ora andiamo qua Giriamo Oh Sai che Le cacciavite Non vanno Da quella parte Una persona Che è nata Con il cacciavite Da quella parte Lei adesso è morta La doveva Immaginare Sto arrivando Penso Ok Sto arrivando Corri così veloce E Giallo Stalla Rosso Vieni Vabbè Non mi salga Niente Oddio Guarda Come ho fatto Non prendere Ma che Cavolo Sta Driciando Su un muro Dove è andato Oddio Sto arrivando Insomma Cosa Sta Qua Ora Il muro Gelo Sta vicino A quel muro C'è La pare La porta Zero Sta qua Vicino Eccolo Qua E ora Mi do Ora Come vedete Ho Tre pannelli Ancora E Win Ne ho Zero Di Vittorio Vedete Qua Che giochiamo Mamma Cia Andiamo Saltiamo 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 Altra due persone Qua Miau E Cosa Cosa Saltiamo 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 E al verde Che ci va qua Col verde Vabbè Non lo so Non penso Che non devo Facco niente Col verde Col verde Non sta Vedi C'è solo Cosa Con la cave Non il verde C'è solo Cosa Verde Vabbè Puoi Verde De Già Preso Qua No Dio Mio Perché Ciao Ciao Saltiamo 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 Veloce 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 Tagliare Mio Penso Che c'è Lavoro Quindi Non può Fare Un po' Editario Non so Come si Editare Qualcosa Non so Se Non Mi Editario Forse Forse Questa parte Sarà tagliata Dove Ricomincio Da là Perché era Caduta Ora ragazzi Andiamo Verde Preso Andiamo Penso che Sta arrivando Stare 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 Quattro Volte Per Quella Che Detto Ora Questo Oddio Un panero Mamma C'è Già Però Dove Andare Veloce Non Sono Sicura Stare Secondo Mi Stare Secondo Facciamo Il Pintana No Stare 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 Tizio Come Lo chiamare Roli Qua È Tutto Sicuro Mi Devo Caltare Non Nemmeno Questa Parte Va Questa 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 Stare Dove Oddio L'ho Vista Questa 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 Mi Scherzo La Non Si Vede Niente Oddio Staranno Di Qua Questa 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 Posso essere il mostro anche, speriamo di essere il mostro, ho più una vita, quindi ho due vite ora, per fortuna, c'è un po' nello, tipo a metà strada, circa questo numero di sparco, non c'è a metà strada, oddio raga, qua che c'è? Lo faccio vedere, posso sapere che c'è, la c'è, ma per fa' cosa? Sto arrivando di nuovo, venite, 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 ma dove cavolo là, quella? Eh, cosa è arrivato? Miau, ciao! No, questa è la zona sicura, ciao! Oddio sta arrivando di nuovo, sta arrivando di nuovo, mannanzi, 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 ciao! Chiudi bene! Ok, ah comunque non so se vi ho detto iscritto al canale, lasciate like, che mi dimentico sempre di rile, allora vabbè, se nemmeno tipo, ok, è andato da quella parte, ma io da quale parte devo andare, non mi ricordo, allora se non sbaglio devo stare tipo vicino, vicino, un pannello, un pannello, un pannello, da magari andiamo dei vicini, abbiamo superato la metà, tipo, sì sì, abbiamo superato la metà, e mo' sicuramente, questo è un altro pannello qua, let's go, let's go, men, stiamo a otto pannelli, mo', come loro, quelli che ho visto prima, quelli di primo, siamo sempre uguali, questo è loro dove l'hanno trovato al pannello, dove sta, dove sta il muro, oddio, staremo, non stare male, no, 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 andiamo di nuovo, non so che mi ha visto, no, ragazzi, il gioco, anche se stavo tipo qua, su questo muro verde, ma se lui stava proprio accanto a me, vicino, vicino, e mi toccava, tipo, un dito delle mani perdeva, lo sto gioco era difficilissimo, però per fortuna non è così, però, oddio, perché non sono andato, ovvio, tutto sto tempo, mostro a me, però di nuovo, tutto sto panto, ma per andare, per andare, a casa, oh, tu, vabbè, è meglio che ti nascondi da qualche parte, perché lui non può entrare, se no, sei fretta, perché ogni volta di venire qua, c'è, il problema di, è proprio forse, devi inseguire me, se il suo dottore non capisce, cosa ho scritto, e mi inseguo tutto il tempo, per dirmi cosa cavolo ho scritto subito, però, raga, è vero, le scritte dei dottori, non capisco più, non capisco niente, delle scritte dei dottori, sembra che hanno, scrivono un'altra lingua, che invece di italiano, prego, sta rimando di nuovo, ma cos'è il problema con te, oh, qual è il tuo problema, mamma mia, così difficile, oh, ma quando, non savo, whoa, so vai, ci abbiamo trovato, l'abbiamo trovata, fortuna, e mo, dobbiamo, ritornare, col posto là, dove, sono andati dove abbiamo fatto quel cacciavete ecco come loro come lo ricordo da qua me lo ricordo raga non è da quella parte ragazzi è da quell'altra parte vabbè eccoci qua dobbiamo arrivare la voglio portare il triangolo sul coso verde fortuna ancora mi ricordo dove stiamo per fortuna per fortuna andiamo 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 però adesso non ho il colore non ho il colore quindi è più difficile non ho il colore quindi non posso nascondere sopra i pannelli di tutti da questa parte è andato ancora da quella parte ogni strada che io devo andare lui è occupato là non può mai la strada opposta ti prego vai da quella parte ti prego vai da quella parte ti supplico vai da quella parte ti supplico vai bravo bambino resta là da ogni volta deve ritornare c'è una strada in cui io non devo andare e sta due secondi e ritorno la strada è che io devo andare e resta cinquanta ore e poi ritorna nella destra qual'è il problema con te penso che mi sono dimenticato il posto mi sono dimenticato il posto raga lo subito non lo nascondi io non lo nascondi io ah no no l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'angolo è blu blu va bene blu ah ma dove sta la cosa blu no dove sta la cosa non me lo ricordo dobbiamo vedere cioè non lo so dobbiamo vedere penso da questa parte no questo non qua ecco me lo ricordo sì me lo ricordo me lo ricordo nelle scale quelle scale dove dobbiamo andare nere dove stanno le scale andiamo su da qualche parte qua vicino ecco stanno le non dobbiamo andare qua qualche veloce qua la sega ah sì sì me lo ricordo me lo ricordo oh ma no non di là io è da questa parte questa là questo della sega ecco qua ecco penso di sapere dove dobbiamo mettere sto coso forse non intendo forse penso che non me lo ricordo neanche io uno viola non so se dove dobbiamo mettere il coso viola che va sto coso questo line spero di sì così è più facile no vediamo questo sembra tipo solo non so se avete presente minecraft di quello che sembra un fantasma tutto bianco tipo nessuno di lui dov'è nascondere dov'è il viola dov'è il viola viola dove cavolo sei mannaggia te viola dove sei dove sei viola dove sei viola viola dove cavolo sei ma che può andare dentro là c'è può andare qua dentro spero di no spero proprio di no non è da questa parte dove allora dove allora posto viola porta viola porta viola basta ecco la parte forse dobbiamo andare di là non lo so non lo so sì o forse no non lo so ecco viola 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 vai sì per fortuna così devo mettere ora pannello qua ho 12 pannelli raga manca un pannello un pannello pannello ho capito dove sta il pannello ho capito dove sta il pannello cosa qua dovremmo andare se non sbaglio con questo martello appena siamo andati sulla porta rossa no c'era accanto ed era una cosa rosa per dipingere rosa lo dobbiamo rompere col martello no quindi oddio qua spero che non si prendi questo che posto è c'è un'altra cosa ecco sì sì penso che sono sicuro sono sicuro sì sono sicuro raga sono sicuro ora io so dove devo andare su però non ho che non perdo perché non ho colori raga non ho conosco ultima spaventata non ho conosco mia su questi oh che sta ariano di nuovo forse le linette se io sono adesso quando sto domando perché se sta dietro di noi non coaggiamo siamo sono 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 cavoli nostri con le porte rossa porta rossa qua 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 le porte rosse ora apriamo col martello ecco rossa da quella parte sempre da quella parte sì raga penso che me lo ricordo penso che me lo ricordo so che no via che facile sto arrivando oh ti prego ok due secondi puoi ritornare oh c'è davvero sto problema vai dal dottore ogni volta le vieni dalla parte qui dottore mamma ci sia ecco la chiave so dove la chiave so dove andare so dove andare però il problema che mi deve prendere ora ora è presente il coso la porta gialla no se andiamo sulla costa dove ci saranno il cubo bio queste cose a quando dovevamo mettere la chiave quindi se non sbaglio dovremmo andare là il problema è che non ho colori e non ho colori è difficile non ho colori oddio stavo proprio qua stavo arrivando qua non mi può prendere ma qua non mi può prendere è da dritto sparisì 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 non sparisì 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 quando sparisì e ora ritorno bravo bravo di farlo coso rosso bravo 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 andiamo andiamo ci arriviamo su un quarto pesco ma succo su già lo spiemo bene oddio l'avete sentito che paura bandella lo faccio vediamo sbagliato strada e allora so che fare questo penso che è venuto qua per per il giallo perché non è chiave no per il verde speriamo che vinci speriamo che vinci ok devo andare la 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 sto sperando ad io aiuto ok lo nuovo qua è la chiave ultimo pannello si qualcosa dovrebbe essere aperto ma cosa poi dove cosa è dove cosa è dove cosa è dove aiuto rollin ho tredisi i pannelli dove devo andare uscita dove perché qualcosa è aperto ha detto non era di fa dove si trova in qualcosa una porta del colore nero e allora e dove sta trovando tu dove è andato c'è un'altra vita bravo no demore se ci aiuta dica cosa 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 ora ho capito c'è una porta aperta tu vedi c'è il colore per aprire il bianco non c'è la porta guarda dove sta dove sta cavolo vado modo cavolo vado cavolo vado ma che cavolo c'è qua si l'ho trovata l'ho trovata oddio quello è bianco penso quello è bianco se vuoi arrivare alla fine tu però c'è il bianco c'è il bianco bello pensa di ricordarmi penso 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 bellissima zo l'ho fatta ma che stanno queste quattro porti rende Rollin! Rollin! Chi hai vinto? Qual è la quattro porta dove devo andare? Tu in che porta sei andata? Penso che qualcuno ha bussato Dissi chi è, dissi chi è Prima dici chi è Seconda 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 Oddio Fighissimo Che devo fare di tutto? Che devo vedere? Due Una Solo qua Osserva Ma c'è il mostro No non ti ho cattura Non possiamo anche andare Fighissimo regalo Si è bellissimo Raga Raga ho vinto Ecco Quinto gol ho vinto Quinto gol ho vinto Prendi un po' solo Oddio Che è questo? Capitolo 2 Perchè? Perchè? Perchè non posso andare? Ancora forse non c'è? Non andare Provo Qual è? Qual è? Ok raga Ci vediamo in un altro video Se Arriviamo a 50 iscritti Vado a fare Il capitolo 2 Ok? 2 Ciao ragazzi Ciao Ciao ragazzi Ciao 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 ragazzi Ciao Ciao